E salve a tutti ragazzi e bentornati con questo secondo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle, sesto anniversario, oggi in compagnia di Chiara e Umoguri da Final Fantasy, e cupò, si porti la fortuna, se avete visto lo scorso video io non vi voglio spoilerare nulla, quindi lasciamo perdere, però signori siamo qua per il Dokkan Fest del sesto anniversario di Goku Ultra Stinto e Vegeta Blue Revolution. Vogliamo puntare ovviamente, come ho detto anche nei video scorsi, su Goku Ultra Stinto, prima di passare a un ipotetico banner di Vegeta, perché io voglio puntare su Goku, come ho detto, e Vegeta al limite, se non lo trovo adesso, lo prenderò shoppando da Babashop quando ritornerà con i coin, shoppabile con i coin penso in un banner di Natale o giù di lì. Quindi signori, io non direi di stare qua a perdere tempo, sto registrando questo video subito dopo il primo. Siamo partiti da oltre 500 stone, abbiamo fatto un giro completo più 50 stone su Goku, quindi andremo a farci due summon e i ticket abbiamo fatto ovviamente, facciamoci due, spendiamo 100 stone, facciamoci anche la gratuita e poi andremo a spacchettarci altri ticket e andremo a prenderci questi oggi. Allora, io direi che voglio partire io, ma questa volta voglio partire io, la scorsa partita lei, e vedete i video ragazzi, lo lascio qua sotto nei commenti, nei commenti, nei commenti. Andiamo! Partiamo con la prima summon, vediamo un po' l'animazione. Parti Goku, C18 e Whis, l'unico potrebbe interessarsi è Whis. Io provo ad alzare il volume per sentire se fa la guarida perché voglio sentire. Spero nella Whis Animation a sto punto mai vista, ho visto Zen, ho visto Black, ho visto tutto, anche la Kamehameha allunga, questa guarda è terzo livello, ci interessa fino a un certo punto. Penso che non voglio dire niente sta qui. Paragas, piccolo, piccolo, no, Naile scusate, andiamo con C16. Ho paura, ho veramente, ho veramente paura. La prossima la facciamo a fare al Muguri, a Mr. Coupo, oh, mi sembrava Zamasu, no, lui, vabbè. Non è l'ultimo, quindi non è l'SSR garantita, c'è qualcos'altro, magari spero una Rissama a sto punto. Gohan, ho preso il conto, mi sa che questo è il decimo, che mi rappresenta, niente, 50 stone prese e buttate di nuovo nel secchio della spazzatura, dell'umido proprio. Perché qui sinceramente Gohazu mi sa che ce l'ho già full ability. Lei ha sempre avuto fortuna a sto gioco, io ho sempre avuto fortuna con personaggi minori, ma le LR le prenderebbe città. Dai, dai. Forse ha fatto ugualità, avrà fatto, non si è sentito, non ho messo lavoro a questo gioco, non mi importa. Ah, Zorbon. Genio, no, scusate, sbaglio, frisa, eh. Napa. Virus. Non è quello. Napa. Eh. Cici! Ehi! Voglio tuo marito, voglio Goku. No, o pelati, o... Insomma, chiesiti, quindi, o pelate, bene, bene. Ci piacciono le teste pelate. E... Oh! Vados! Ability 2! Not bad! Mi serve comunque abbastanza, perché ho gli skill buona. E... Però... tantissimo, proprio un ruolo del culo, questa cosa. Io andrei con la free trial. Voglio... Poi sto giro, voglio abbracciarlo. Ti prego. Dai! L'antennina. Biru, 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 kubu, kubu, kubu. Se c'è Beerus, potrebbe esserci una vista animation, non lo so come funziona, sinceramente non l'ho mai vista, quindi non so se c'è Beerus e funziona allo stesso modo. Puoi sentire? Kamehameha! Bravo! Manco si stesse al formato. Fate un video schifo. Spero... In un doppio crack the screen. Bye guys! Niente, bene. Grazie Pupu. Grazie. Grazie. Ah... Mettiamo via Pupu, vabbè. Vorremmo un testo, non sono rimasto perché ho perso il conto, però ci facciamo la settimana un altro gioco, un scopo, ma delle ticket. Eh, stigano, non me ne frega. Chi è? Chi è? Chi è super vegeta? Ci fa. Guardate che lì, scheragia del str fisio attacco e HP più 30%. Veramente stifoso. Lui! Buon? Dov'è? 10. Quanti pensano già via? Chi è? È Bardock. Bardock. Fiero! Fiero! 245 stone. Io ne spenderei altri 50 subito di bot su gomme, per un cazzo. Vai! Altre 4 summon. 350 stone più gratuita. Black animation. Black, 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 black. Dove è come l'anno scorso? C-17 Goten. Manco so scambiare una parola in tutto il cartone animato. Li mettono nella sua mano insieme. Ma si conoscano Goten C-17 onestamente. Non so. Si conoscano? Sono malisti? Non so. Vabbè, abbiamo la God. Potenzialmente dobbiamo avere più di una SSR potente. Potenzialmente. Super Bu. 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 Procino abbastanza. Esca. È simpaticissimo. Esca. Sì 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 sì. Sì sì. Esca. ci siamo che si sa mai non c'era nessuno questa savon che questa roba poi non è neanche l'ultimo pensate mi trovano a rir salmon e da 20 vestendo quanti pensaggi da questo è super 2 ma è quello vecchio no 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 pensavo se il super book quello del del camp fest con gothen con gothenx no va bene ora abbiamo trovato un'altra l'era ragazzi è l'anniversario di gohan e cioè io non vedo nemmeno voglio scuola ma è già il terzo e peschiamo va bene andiamo con abiliti abiliti e se vedessi la black animation sarebbe bello questa animazione se mi fa cosa mi fa niente laser rainbow poi e poi niente non voglio niente st'animazione non so cosa abbia detto però noi andiamo avanti tranche se il peggior vegeta ci sia questo il giorno vegeta in tutto quanto d'organ perso il conto da gomma giancia è proprio lui porta c'è fortuna giancia 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 picco di n su e perché faceva sembrava il cannone è uguale il drago e c18 bye bye ma che mancano punto e siamo l'ultimo ssr di freezer quale frise questo gt infezer gt quello più schifoso complimentoni io ho deciso adesso che non per non pescherò più niente però rega quello dico qui lo nego qui non lo nego se troviamo globo io mi faccio la barba solo per intanto di un buon passo chi non è la gana l'ultima e poi facciamo ticket va bene t17 piccolo io sinceramente non lo so se vuol di qualcosa non credo non credo voglia di nulla v 0 io scriverei giusto perché cucine frega nulla vedi 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 nulla lo schifo più completo lo schifo più completo però stiamo facendo una raccolta di coin incredibile penso che già con questi possiamo non tracce nell'ultimo gona gl dallo storia c'è quella gratuita poi si passa ticket ragazzi buon preso un altro giro su gopen inizialmente siamo rimasti con 95 stone e non spese ben 400 ragazzi 400 store c 17 c 18 dai la c 17 se hai vinto tu hai vinto tutto il torneo aiutato goku tutto è connesso frost via come dire ancora invece con le cose hercules ho perso il conto c 18 c 18 finalmente l'ho preso io nel mare era per lui era per lui era per lui abbiamo trovato anche super blr krillin non è l'ultimo e l'ultimo è ancora un'altra volta bu però ragazzi abbiamo trovato tutto il banner tranne che goku che bello tra le goku e con quello un piccolo però abbiamo ottenuto un'ottima ssr un'ottima lr sinceramente è una di skill che mi manca potrei creare alcun team potrei quanti ticket abbiamo 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 due ticket da parte e ne abbiamo ottenuti altri 15 quindi niente sempre una ragazzi sempre è caduto un telefono perché lei vuole un telefono che lo compro quando arrivano soldi della partnership e si compra il telefono a chiare un po po abbiamo fatto molti siamo noi che dai 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 poi ci servirà altri 150 sono per fare un altro giro completo quindi aspetteremo top grossing e altre missioni c'è tutto speriamo in guis perché lui ne può fare animazione decente perché in cui fanno più schifo avrà detto vari da si è sputato di nuovo io sono emozionato la derivazione un po alta cocco non è rimane troppo che trovo è ecco con poi inizio del gioco esatto e avanti e avanti e avanti e avanti per l'amor di dio si è terzo pg quarto pg mi sa che anche questi ticket ragazzi abbiamo buttato in accesso chi sei o almeno lui almeno un gruppo il comando è quello piccolo almeno lui si sia lui e lui e lui avrà detto varietà nel avrà detto quello che rimasso non c'era un cazzo potrebbe non essere finita ma dai 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 che su un carico torri frisa antici 16 dai ultimo pg quanto ne mancano anche ne mancano e vado di nuovo va bene abiliti tre per lei però abbiamo trovato un altro doc an feste e questo signore questo gohan con la lì skill bond master and disciple ma sinceramente già ce l'avrei la dischi però è un pesaggio che volevo manca solo gogo ma si è trovato tutto manca solo gogo ragazzi manca solo gogo i ticket te li tengo da parte per le prossime salmon siamo 95 stone dobbiamo accumulare le altre e direi di poterci fermare qua nel momento niente goku purtroppo ma continuere ragazzi non ci vediamo nel prossimo video ciao